31 maggio 1857 nasce papa più undicesimo al secolo ambrogio damiano achille ratti è il 259 vescovo di roma e papa della chiesa cattolica dal 1922 alla sua morte nel 1939 durante il suo pontificato più undicesimo grazie al concordato del 1929 normalizza i rapporti con lo stato italiano e con numerose altre nazioni europee non ostila mussolini achille ratti limita fortemente l'azione del partito popolare favorendone lo scioglimento e rinnega ogni tentativo di stuzzo di ricostituire il partito si scontra tuttavia con il fascismo a causa dei tentativi del regime di egemonizzare l'educazione della gioventù e di intromettersi negli affari privati della chiesa più undicesimo è inoltre autore dell'enciclica quas primas dove viene stabilita la festa di cristo re che sancisce il diritto della religione a pervadere tutti i campi della vita quotidiana dallo stato all'economia all'arte e richiama i laici ad un maggiore coinvolgimento religioso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti